Piove di sacco. Alla ricerca di sponsor per un fantomatico evento sportivo. Questa la scusa usata da un 45enne di Solesino per truffare alcuni commercianti del piovese. L'uomo, nel mese di agosto, si era presentato agli esercenti di Piove di sacco e Codevigo domandando soldi in contanti che sarebbero serviti per l'organizzazione di un evento sportivo poi, ovviamente, mai realizzato, in cambio di pubblicità nell'ambito della stessa kermessa. Sette le attività cadute nella trappola del 45enne che in tutto era riuscito a raccogliere poco meno di 500 euro. Il 45enne, pregiudicato, è stato identificato dai carabinieri e denunciato.